Giulia Dell'Hellis, la bella beauty influencer seguita da più di 2 milioni di followers su Instagram, ex cefina ed ex corteggiatrice di uomini e donne, nelle ultime settimane è al centro dei gossip. La ventunenne romana ha messo un punto alla sua fiabesca storia d'amore con Andrea Damante, conosciuto proprio nello studio del dating show di Canale 5. La domanda insistente dei fan, nonostante il silenzio dei diretti interessati, è perché i due si sono lasciati? Giulia Dell'Hellis, ex corteggiatrice di uomini e donne ed ex cefina, apprezzatissima web influencer con più di 2 milioni di followers su Instagram, è stata recentemente al centro dei gossip dopo aver rivelato della fine della sua fiabesca storia d'amore con Andrea Damante, Ex tronista del dating show di Canale 5 e amato DJ Veronese.La giovane Giulia non ha fornito ai fan ulteriori dettagli sulla chiacchierata rottura, ma sul web si rincorrono le voci di un possibile tradimento da parte dell'ex tronista nei confronti della sua compagna. Punto come spiega anche il settimanale nuovo, sembra esserci proprio l'ombra del tradimento dietro la fine della relazione dei giovani ex cefini, come un fulmine a Siel Sereno, dopo le numerose dichiarazioni d'amore e l'idea di un possibile matrimonio all'orizzonte spuntano frasi scottanti che fanno pensare ad un'intrusa nella loro relazione durata due anni si legge sul rotocalco diretto da Signoretti.Quale sarà la verità? La bella Giulia si è lasciata andare anche ad uno sfogo sui social ove ha chiesto riservo e rispetto per il difficile momento che sta attraversando parlate tutti senza sapere, parlate poi tutti dopo due anni. Come se non leggessi, come se non esistessi. Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Parole dure quelle della web star che farebbero pensare davvero ad un possibile tradimento di Andrea. Il DJ nega ed entrambi, trincerati dietro le loro vite, mantengono un decoroso silenzio.Giulia Dell'Hellis, dopo l'addio ad Andrea Damante, diventa tronista. Andrea Damante tradisce Giulia Dell'Hellis con Sofia?